Ecco qui, a parlare di un film che ho visto ieri, ovvero Maleficie. Scene al buio, poco visibilità, non molto chiare e non bene precise. Quindi, prima scena che fa capire tutto, che non fa capire niente, che non si sa bene dove realmente si vuole arrivare. C'entra, andiamo oltre a parlare di quello che io ho visto ieri realmente. Non c'è filo logico. Vabbè, inizia con c'era una volta, come iniziano tutte le belle favole. C'era una volta e poi dove si va a finire? Che si va sempre, giustamente, a finire bene. Viva il bel principe, ovvero Filippo, e la chiede in sposa. Lei assolutamente dice di sì. Poi, allora che fa il principe Filippo? Filippo, invita Aurora al suo palazzo, ovvero da Giovanni, il re Giovanni. Naturalmente la regina che complotta, ovvero la mamma di Filippo, che complotta contro di lei, ma già nel primo film avevamo visto, che fa, cerca di invitare tutti. Ma la possiamo vedere anche ironica? Lei arriva lì al palazzo con Aurora per conoscere la famiglia, il re, per far sì che tutto si porti alla pace, perché tutto il film forse è basato sulla pace? Può essere il re Giovanni. E che fa? La mamma di Filippo si mette a competere con lei. Il re Giovanni cerca di svincolare un po' sull'argomento, parlando di altre cose. L'ha sfidata perché lei non voleva essere accusata di quello che aveva fatto. Andiamo oltre. E poi, dopo di che, lei fa sbotta, come si può dire, lì mentre mangia, eccetera, eccetera. E che fa? Che fa? Mette la sua magia, i suoi poteri, e poi... Prende e se ne va. Aurora, che fa? Rimane molto sconvolta. Sconvolta perché innanzitutto c'è da sottolineare che comunque la regina furbamente fa sì che Aurora si innamori di lei e della sua famiglia. Fortileggio verso il re. Ma non è stata lei, è stata ovvero la mamma di Filippo. veleno, veleno, che c'era nell'arco. Stesso segno, stesso tutto. Vabbè, non vado oltre. chi la colpisce perché loro, purtroppo, queste creature che le possiamo definire fate, sono intolleranti al ferro. Essendo ferita, va a finire il mare e poi viene misteriosamente salvata da... da... possiamo definire un angelo con le ali? In questo... altro mondo possiamo definirlo? Sì. E... lì. Tranquilla. Con le ferite, è stata curata, medicata. sente delle voci, va giù e trova, tipo come se fosse una grotta o una caverna, e trova dei suoi simili che vogliono, purtroppo, combattere contro gli umani. Capo c'è la morte con gli umani, però chi l'ha salvata no, perché vuole portare pace. Li fa vedere un po' il loro mondo com'è, potrebbe essere un mondo sotterraneo, ma sì, senz'altro, però l'origine è tutto dalla Fenice. Comunque, tutto sta nascosto nei sotterranei del castello, ovvero nei sotterranei del castello del re Giovanni e di Filippo, dove la regina ha un laboratorio segreto e lì stanno facendo una pozione magica per distruggere tutto il mondo, possiamo definirlo così fatale. Scene un po' al buio, scene terrificanti. Non sono tanto terrificanti, però non c'è una sequenza delle scene, si passa da un argomento all'altro. Io pensavo che questo film fosse all'inizio più dedicato, ovvero ad Aurora, che pensavo ancora che forse lei venisse imprigionata nella torre della regina. No, invece non è stato così. È stato così perché semplicemente hanno fatto, secondo me, come si... un po' di confusione. Secondo me non riuscivano a chiudere la scena, a chiudere, a far vedere realmente quello che volevano interpretare. Per concludere, velocemente, perché non voglio andare oltre. Arrivano tutti al matrimonio invitati, eccetera, eccetera. Ah, c'è da sottolineare una cosa che non ho detto. Aurora scopre che la fin della fiera non è stata, ovvero la sua madrina, a uccidere suo padre, ma la mamma del principe, Filippo. Poi ho pensato, non è così, perché una storia non può finire così. Dopodiché, dopo i vari pianti, come per magia, che magari tante volte nelle fiabe fan vedere le lacrime che possono risolvere qualsiasi problema, che fa? Malvagia. Come se, allora, loro sono immortali, no? C'è da sottolineare. Quindi, risuscita e si trasforma in una fenice. Concludo qui. Penso che avete capito un po' come la sequenza del film, però ci porta a un punto di domanda. Che forse ci sarà ancora un sequel? Sta a voi a dirlo. Un bacione.